È una fase di discussioni, di dibattito interessante a vista del congresso del 3 marzo, quindi vedremo che cosa sarà questo dibattito adesso, spero che ci sia una grossa riflessione anche attorno alle cose che non sono andate bene, spero che ci siano idee buone per il futuro, spero che il paese abbia bisogno di un'opposizione che sia efficace e funzionale.